Nubi fragili e vento forte da ieri sera il Comasco è stato sferzato da una violenta ondata di maltempo, allagamenti e piante pericolanti segnalati in molte zone della provincia, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare nella zona di Cermenate, dove è stato necessario mettere in sicurezza il sottopassaggio nei pressi dell'ingresso della Milano-Meda, ripercussioni e pesanti disagi sul traffico ferroviario e in alcuni punti del territorio per quello automobilistico. Come via Oltrecolle a Como a causa di un grosso ramo sulla strada, o come accaduto a Drezzo per una pianta caduta sulla provinciale 18, il maltempo si è abbattuto anche sul milanese, non sono mancati guaste sui binari alla stazione di Milano-Porta Garibaldi, con ritardi fino a 60-70 minuti lungo le diverse linee, tra cui quella che conduce a Chiasso, passando da Como a San Giovanni, ma anche tra le stazioni di Cadorna e Domodossola, causando a cascata interruzioni del servizio e ritardi sull'altra direttrice. Numerosi i convogli cancellati e le variazioni di percorso che hanno interessato i pendolari comaschi che utilizzano i treni per spostarsi verso Milano, un'odissea per i viaggiatori. Sul fronte meteo, dunque, previsioni rispettate. La Sala Operativa della Protezione Civile della Lombardia aveva emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico e una gialla per rischio temporale, segnalando precipitazioni diffuse. Per la giornata di venerdì situazione in miglioramento, anche le temperature si rialzeranno, ma nel weekend, domenica in particolare, sono previsti nuovi violenti temporali.